GERMANIA NAZISTA Attacco finale al cuore del mare L'SOE aveva reclutato noi sei sotto il mio comando Con un suo scopo, recuperare dossier sul progetto Phoenix L'ultima arma segreta del terzo Rai Una coalizione di commando alleati messa insieme E scagliata lì dove il nostro nemico era più vulnerabile Doveva essere la nostra prima e unica missione Guardate che roba! Un mondo stupendo! Chi vuole salvarlo? La svidagna! Andiamo! Si comincia! Sicuro che possiamo farcela? E se prendiamo il treno, possiamo farci Il va per primo No va, vai qui Tutti gli altri vicini Cazzo! Io vi copro da questo vagone Accordate, non devono vederci Da morti non vedranno un bel niente Cazzo! Grazie a tutti.